Lo sappiamo, hai teso la tua mano verso coloro che puntualmente ti hanno deluso e hanno deluso le tue aspettative. Stiamo parlando di quelli che cercano sempre di trarre vantaggio da te, agendo con manipolazione, diffondendo negatività e lasciandoti esausto, o di quelli che non rispettano i tuoi confini personali. Il rifiuto in questi casi non è un atto di maleducazione, ma piuttosto l'istituzione di confini che salvaguardano la tua integrità emotiva. I principi stoici ricordano a tutti noi che il nostro tempo ed energia sono risorse limitate e preziose. E a questo proposito è cruciale comprendere che, anche con le migliori intenzioni, se la persona non è disposta a cambiare, ogni nostro sforzo risulterà infruttuoso. Prima di investire le tue energie in situazioni irrisolvibili, resta con noi fino alla fine di questo video, perché ti guideremo attraverso i segnali che potrebbero indicare il tentativo di aprire una porta che invece rimarrà saldamente chiusa. Oggi imparerai a riconoscere i nove tipi di individui le cui azioni e atteggiamenti sono tossici e dannosi, e ai quali negare aiuto non è un gesto di ostilità, ma un atto di protezione della tua integrità emotiva. Ricorda che anche se cerchi di aiutare qualcuno con tutte le tue forze, se non vi è volontà di cambiamento, i tuoi sforzi saranno vani. Iniziamo. Numero 1. Quelli che vivono in realtà fittizie. Nel vasto panorama dell'esperienza umana, alcuni di noi si avventurano in mondi di finzione, abbracciano realtà alternative per se stessi. Queste persone si immergono in racconti autocostruiti, credendo nell'illusione come se fosse verità. Intrecciano un tessuto di inganno per adornare le loro esistenze, lontano dalla ricerca stoica di consapevolezza di sé e trasparenza interna. Preferiscono celare le proprie insicurezze e paure dietro fantasie rassicuranti. Queste costruzioni immaginative fungono da rifugio e prigione allo stesso tempo, dove la realtà viene costantemente rimodellata per adattarsi alle loro speranze e capricci. La sfida di confrontarsi sinceramente con se stessi viene abbandonata, sostituita dall'attrattiva seducente di vivere in un mondo dove le scomode verità sono respinte e solo le fantasie sono accettate. È una pericolosa danza sfumata con la realtà, dove il vero io è la posta in gioco. Tuttavia, cosa accade quando le maschere cadono e la realtà emerge in tutta la sua cruda essenza? Queste elaborate illusioni possono persistere? O siamo inevitabilmente destinati ad affrontare le nostre paure e le evasioni che abbiamo costruito? Riflettere su queste realtà false non è solo un atto di curiosità, ma una chiamata a riconoscere e rivalutare la nostra autenticità. Si trascura il fatto che le nostre menti hanno il potere di plasmare la percezione della realtà, inclusa quella di noi stessi. Questo comportamento può derivare da traumi radicati o da un profondo desiderio di approvazione che distorce la percezione dell'esistenza. Queste sfide possono aver spinto alcuni a costruire un rifugio fantastico per la sopravvivenza emotiva. Aiutarli è un compito arduo poiché hanno eretto solide barriere mentali. Anche se si cerca di illuminarli con la realtà, rispondono con argomenti che crollano di fronte alla luce della verità. Nonostante le evidenze, manipolano i fatti per farli aderire alla loro finzione preferita. Una vera trasformazione è possibile solo se riconoscono gli errori nella loro logica, un processo spesso facilitato dall'aiuto di un professionista psicologo esperto. Questo riflesso trova eco nelle dinamiche del dibattito politico odierno, dove le persone si aggrappano alle proprie credenze, ignorando le evidenti incongruenze della loro pseudoragione. Numero 2. Gli opportunisti. Un autentico amico si rivolge a te nei momenti di reale bisogno, manifestando un reciproco scambio di rispetto e affetto. Al contrario, gli sfruttatori si rivelano attraverso una costante sequela di richieste e favori, spesso per questioni superficiali. Non considerano il valore del tuo tempo e ti ritrovi a soddisfare le loro richieste nonostante il tuo rifiuto iniziale. Sanno come farti sentire in colpa per un eventuale rifiuto e anche dopo ripetuti tentativi di salvataggio non mostrano alcuna intenzione di cambiare, convinti che qualcuno li aiuterà sempre. È consigliabile prendere in considerazione di distanziarsi da queste persone senza remore, poiché il proprio benessere e le proprie responsabilità devono essere la priorità principale. I sofisti, con la loro eterna saggezza, comprendevano l'importanza di guardare al mondo con gli occhi dell'empatia, abbracciando i sentimenti degli altri con un cuore aperto, libero da pregiudizi. Tuttavia, questa virtù può essere distorta da alcuni individui che, percependosi vulnerabili, possono essere sfruttati sotto mentite spoglie di amicizia per fini egoistici. Quindi, come distinguere il vero amico dal falso alleato? La chiave risiede nell'osservare attentamente le sue azioni. La frequenza e la natura delle sue richieste sono indicatori chiari delle sue reali intenzioni. Quando ci confrontiamo con qualcuno, è fondamentale che l'empatia non ci renda ciechi alla realtà delle sue intenzioni. Dobbiamo coniugare la generosità del cuore con la prudenza della mente, garantendo che la nostra compassione non venga abusata, ma piuttosto indirizzata verso coloro che la apprezzano e la restituiscono con pari misura. Alcune persone possiedono una sorta di abilità artistica nel suscitare sensi di colpa negli altri. Inizialmente potrebbero lodare le tue qualità, chiedendo poi se potresti fare qualcosa per loro, sottolineando quanto tu sia un buon amico. È normale chiedere aiuto occasionalmente, ma queste persone richiedono assistenza in modo continuativo, anche in situazioni che potrebbero gestire da sole. Numero 3. Gli egocentrici. Ci sono individui così centrati su se stessi che sembrano credere che il mondo giri attorno a loro. L'egocentrismo è un tratto sconcertante e spesso esaustivo della natura umana. Lungo il percorso della vita è inevitabile incrociare coloro per i quali l'io è il fulcro intorno al quale ruota l'intera realtà percepita. Vivono nell'illusione che ogni evento, ogni sussurro del destino risuoni a causa della loro presenza. Immagina di condividere le tue frustrazioni sul caotico traffico cittadino. L'egocentrico minimizzerà il tuo racconto con un disprezzo casuale, solo perché non è stato coinvolto in quel traffico. O quando sei gioioso nel condividere notizie su un nuovo lavoro appena ottenuto, la stessa persona getterà rapidamente un'ombra sulle tue buone notizie che fanno ostruzione alla sua carriera. Questo comportamento può essere paragonato al vampirismo emotivo, dove la tua energia e gioia vengono prosciugate per soddisfare il vuoto insaziabile delle necessità e drammi di queste persone. Invece di un dialogo, ci si trova di fronte a un monologo dove contano solo i sentimenti e le opinioni dell'egocentrico. Di fronte a questa realtà, ci si chiede se valga la pena rimanere accanto a qualcuno così assorbito in se stesso. E, ancora più importante, se abbiamo la forza interiore per aiutarlo o esigere che quella persona riconosca e convalidi i sentimenti degli altri. È essenziale comprendere che non importa quanto ci sforziamo di guidare qualcuno verso il miglioramento, se la persona in questione resiste al cambiamento, è probabile che rimanga stagnante. Allo stesso modo, se siamo impegnati in un percorso di crescita personale e chi ci circonda ci avvolge di negatività, potrebbe sicuramente diventare un ostacolo al nostro progresso. In certe situazioni, la saggezza risiede nel saper proteggerci e forse distanziarci da coloro la cui presenza non arricchisce più la nostra integrità emotiva. Proteggerci non è solo un'opzione, ma una strategia necessaria per la nostra sopravvivenza psicologica. Numero 4. Coloro che non riconoscono i propri difetti. Queste persone raramente accettano la responsabilità delle loro azioni, mostrando una mancanza di autocritica e umiltà, qualità considerate cruciali per la crescita personale stoica. Per loro, la colpa è sempre altrove, mai su loro stessi. Possono attribuire un esito negativo alla sfortuna piuttosto che cercare difetti interni. Vivono in un mondo dove la riflessione sulle proprie azioni sembra distante e inaccessibile, un mondo dove non sono mai responsabili della loro sfortuna. Questa prospettiva sfida direttamente gli insegnamenti stoici, che sottolineano l'importanza dell'autocritica e dell'umiltà come fondamentali per il progresso personale. Coloro che evitano la responsabilità per le proprie azioni mostrano resistenza all'introspezione, rifiutandosi di riconoscere che l'imperfezione è parte integrante dell'essere umano. Gli stoici esortano a riconoscere la nostra responsabilità e a capire che l'errore, quando riconosciuto e contemplato, è un potente maestro. Considerando la possibilità di aiutare tali individui, è importante riflettere sulle parole di Marco Aurelio. La migliore vendetta è non essere come loro. In certe situazioni, la nostra energia potrebbe essere meglio investita nell'automiglioramento e nella pratica della virtù stoica, piuttosto che nel cercare di cambiare coloro che non sono disposti. E infine, quando decidiamo di distaccarci, non è con un cuore carico di rancore, ma con la comprensione stoica che la nostra pace interiore e il nostro progresso non devono essere compromessi dall'ostinazione degli altri. Come ci ricorda Epitteto, la libertà è l'unico obiettivo degno che abbiamo. E a volte, la vera libertà significa allontanarsi da coloro che sono saldamente ancorati ai loro errori. Numero 5. Coloro che resistono all'apprendimento e al cambiamento. Gli stoici identificavano la resistenza all'apprendimento e al cambiamento come ostacoli fondamentali per il progresso morale e intellettuale. Per loro, la saggezza non è un traguardo fisso, ma un percorso continuo di sviluppo personale. La filosofia stoica promuove l'autoriflessione, una valutazione onesta di se stessi e una volontà di adattarsi e imparare dalle esperienze della vita. Epicuro sosteneva che dovremmo essere aperti a rivalutare le nostre convinzioni. Egli esortava a non temere l'autoriflessione, poiché il vero apprendimento deriva dalla capacità di cambiare e migliorare. Marco Aurelio, inoltre, sottolineava l'importanza di essere aperti a nuove idee e prospettive, invitando a non essere ostinati nelle proprie opinioni. Per affrontare coloro che resistono all'apprendimento e al cambiamento, l'approccio stoico non impone la trasformazione, ma suggerisce di guidare con l'esempio attraverso il proprio comportamento. Gli stoici raccomandano anche di praticare l'empatia, cercando di comprendere perché alcune persone, si aggrappano a certe convinzioni o comportamenti, affrontando le discussioni sul cambiamento in modo rispettoso. Tuttavia, la filosofia stoica riconosce che esistono cose al di fuori del nostro controllo, compresi gli atteggiamenti e le scelte altrui. Pertanto, potrebbe essere opportuno accettare che, nonostante i nostri sforzi, alcune persone potrebbero aver bisogno di giungere alla consapevolezza e alla volontà di cambiare nel proprio tempo e modo. Questo non significa abbandonarle, ma piuttosto rispettarne il percorso e essere disponibili ad aiutare quando sono aperte al cambiamento. Come direbbe un buon stoico, preoccuparsi meno di convincere gli altri a cambiare e più di essere un esempio di cambiamento positivo. Numero 6. Coloro che sono intrappolati nel pessimismo. Tale mentalità risulta controproducente nel mondo stoico, poiché gli stoici promuovono una visione resiliente di fronte alle avversità, aspirando non solo all'accettazione, ma anche alla trasformazione delle percezioni negative e incostruttive. Seneca consigliava di imparare dalle esperienze e di utilizzare le difficoltà come opportunità di crescita. Egli affermava che le cose sono difficili perché non osiamo. Suggeriva che l'ostacolo non sta nelle situazioni stesse, bensì nella nostra esitazione nel confrontarci con esse con coraggio e ottimismo. L'attenzione eccessiva sul negativo contrasta con la pratica stoica di una riflessione razionale e obiettiva sui problemi. Nello stoicismo, la chiave della serenità interiore risiede nell'accettazione del fatto che possiamo controllare le nostre reazioni. Epicuro sottolineava l'importanza di non preoccuparsi degli eventi al di fuori del nostro controllo, ma di concentrarsi su come rispondiamo ad essi. Inoltre, la filosofia stoica valorizza la serenità derivante dalla gratitudine e dal riconoscimento del positivo nella vita, persino nelle circostanze più difficili. Marco Aurelio, ad esempio, riteneva importante contemplare la vita con gratitudine e trovare gioia nel presente. Nel trattare con persone immerse nel pessimismo, la saggezza stoica suggerirebbe di offrire supporto pur proteggendo se stessi dalla loro negatività. È cruciale capire che, sebbene l'empatia sia una virtù, non possiamo forzare il cambiamento negli altri. Ogni individuo deve desiderare la trasformazione per se stesso. Gli stoici insegnano a concentrare l'energia dove può avere un impatto positivo e talvolta ciò può significare preservare il nostro benessere, anziché cercare disperatamente di cambiare la prospettiva di qualcun altro. Pertanto, potrebbe essere più saggio indirizzare i nostri sforzi verso coloro che sono aperti e disposti ad abbracciare una visione più equilibrata e ottimistica del mondo, in linea con le pratiche stoiche di miglioramento personale, pronti a lavorare su se stessi e a crescere con il sostegno offerto. Numero 7. Coloro che evitano la responsabilità personale. Gli stoici sottolineano il potere della nostra interpretazione e risposta alle situazioni esterne, espresso in modo lapidario dalla famosa citazione di Epiteto. Ciò che conta non è ciò che ti accade, ma come reagisci a ciò che ti accade. Coloro che evitano di assumersi la responsabilità delle proprie azioni, incolpando costantemente fattori esterni o altre persone, stanno evitando la crescita personale, l'accettazione della propria azione e delle relative conseguenze. Gli stoici insegnano l'importanza dell'autoesame. Marco Aurelio, nelle sue meditazioni, rifletteva su se stesso e sottolineava l'importanza di esaminare le proprie azioni e motivazioni, piuttosto che addossare le colpe ad altri o alle circostanze. Per aiutare chi ha intrappolato in questo ciclo di illusione delle responsabilità, la saggezza stoica suggerirebbe di incoraggiare una sincera autovalutazione, spingendo la persona a riconoscere ciò che è sotto il proprio controllo, le proprie azioni, reazioni e giudizi. Tuttavia, gli stoici capirebbero anche che ogni individuo deve essere pronto a intraprendere questo viaggio di autoscoperta. Non è qualcosa che può essere imposto dall'esterno. Inoltre, mentre possiamo offrire supporto e prospettiva, gli stoici ci ricorderebbero di non lasciarci influenzare mentalmente dai fallimenti altrui o dalla loro resistenza al cambiamento. Dobbiamo accettare di non controllare le azioni degli altri, solo le nostre. Il cambiamento deve partire dall'interno e spesso la sofferenza e le difficoltà sono i catalizzatori che portano le persone alla riflessione e al desiderio di cambiare. Pertanto, le difficoltà della vita offrono preziose opportunità di crescita personale e spesso l'apprendimento più efficace deriva dal confrontarsi direttamente con le conseguenze delle nostre scelte. Numero 8. Coloro che hanno aspettative di privilegio. L'attesa di privilegi non meritati contrasta con l'etica del lavoro e con il focus sullo sviluppo personale, caratteristici della filosofia stoica. Gli stoici insegnano che il valore di una persona non deriva da privilegi innati o dall'aspettativa di un trattamento speciale, ma dalla coltivazione di virtù personali come saggezza, giustizia, coraggio e temperanza. Epicuro sottolineò che dovremmo lavorare per ottenere ciò che desideriamo e che il senso di merito senza sforzo è un'illusione e una fonte di insoddisfazione. Marco Aurelio parlava dell'importanza di vivere in armonia con la natura e di non considerarsi superiori a nessuno, indipendentemente dalla propria posizione. Rifletteva spesso sull'impermanenza delle posizioni di potere e sull'importanza di mantenere l'umiltà. Per uno stoico, l'universo non deve nulla a nessuno. Ciò che ci accade è il risultato di una complessa rete di cause ed effetti e le ricompense vere derivano da azioni virtuose e duro lavoro, non da aspettative irrealistiche o richieste. Affrontare individui con aspettative di privilegio implicherebbe, nello stoicismo, essere un esempio di vita moderata e centrata sulla virtù, dimostrando attraverso le proprie azioni il valore del lavoro e del contributo equo. Inoltre, sarebbe consigliabile incoraggiare tali persone a riflettere sulle loro concezioni di merito e giustizia, sfidandole gentilmente a considerare ciò che meritano veramente in base alle loro azioni, non ai loro desideri o aspettative. Gli stoici consiglierebbero anche di evitare reazioni emotive negative verso l'ingratitudine o il senso di privilegio negli altri, tenendo presente che ogni individuo agisce in base alla propria comprensione e che a volte l'esperienza diretta delle conseguenze delle loro aspettative irrealistiche può essere la lezione più profonda che possano imparare. Numero 9. Coloro che trascurano la pianificazione per il futuro. La prospettiva di coloro che preferiscono vivere in uno stato perpetuo di contentezza con il presente contrasta con i principi stoici, i quali, sebbene riconoscano l'importanza di vivere qui e ora, riconoscono anche la necessità di prepararsi per il futuro attraverso azioni consapevoli nel presente. Lo stoicismo insegna ad abbracciare e apprezzare il presente senza trascurare la progressione naturale delle cose, compreso l'inevitabile passare del tempo e la transitorietà delle circostanze. Secondo Seneca, la preparazione per il futuro dovrebbe essere un'estensione naturale dell'impegno e della dedizione che applichiamo al presente. Vedere il potenziale negli altri e desiderare che loro lo vedano in se stessi è un riflesso della compassione umana. Tuttavia, secondo lo stoicismo, ogni individuo dovrebbe essere in grado di riconoscere e sfruttare le proprie capacità. Marco Aurelio disse che portiamo dentro di noi il potere di plasmare il nostro futuro attraverso le nostre azioni attuali. Incoraggiare qualcuno a pianificare per il futuro non implica negare l'ansia o altre emozioni difficili, ma comprendere che fanno parte dell'esperienza umana. Lo stoicismo offre strumenti per imparare a convivere con questi sentimenti senza esserne dominati. Quando vediamo qualcuno senza piani per il futuro, potremmo interpretare questa mancanza di previsione come uno spreco di potenziale. Tuttavia, è cruciale riconoscere che ogni individuo ha il proprio tempo e percorso di sviluppo. Mentre incoraggiamo e sosteniamo gli altri nel loro crescere, dobbiamo anche accettare che la scelta di pianificare o meno per il futuro è personale e deve essere rispettata, sempre con la speranza che con il tempo ognuno troverà la propria strada verso il progresso. Se hai trovato questo video utile, metti mi piace e iscriviti a Dose Mentale. Il tuo supporto è prezioso per noi e per tutta la comunità. Grazie per aver guardato fino alla fine e ricorda che hai il potere di cambiare la tua vita. Ci vediamo nel prossimo video.